Desertificazione bancaria. Stiamo facendo il possibile? Il punto di domanda arriva dal convegno che si è svolto nella sala del Consiglio della provincia di Terni organizzato da First CISL Umbria. Una questione particolarmente sentita anche nella provincia di Terni che deve fare i conti con ben 11 comuni rimasti privi di filiali. È stato quasi necessario e quindi ringraziamo la categoria della FISL e dei bancari per averlo organizzato perché cade su un momento di difficoltà che si sta vivendo in molte zone della nostra regione, in particolare le zone più marginali dove vengono chiusi sportelli, vengono revocati anche i bancomat e quindi le persone che hanno una certa età trovano più difficoltà di altri per poter avere i servizi bancari. Per di più l'aspetto di uno sportello bancario con il personale aveva anche una funzione sociale. Poi c'è anche l'aspetto della sicurezza. Molte truffe si stanno verificando a danni degli anziani e quindi sono la categoria più vulnerabile e che soffre di più questa carenza nel territorio dei sportelli.